Ancora escalation di furti in casa e la Polizia di Stato rilascia un vademecum sugli accorgimenti da adottare per rendere così le nostre abitazioni meno vulnerabili. Per evitare, quando ci allontaniamo dalle nostre case, di trovare sgradite sorprese, la Polizia di Stato ricorda di mettere in pratica quegli accorgimenti che rendono noi e i nostri appartamenti un po' meno esposti. Verifichiamo l'efficienza dei sistemi di protezione che avevamo pensato di installare, quindi porte blindate, allarmi e videosorveglianza. Evitiamo di lasciare a casa somme di denaro o oggetti di valore facilmente trasportabili. Non lasciamo a casa chiavi di altre abitazioni, pertinenze, cassaforte, auto, moto, magari parcheggiate in garage. Affidiamo per qualsiasi evenienza le chiavi di casa ad una persona di estrema fiducia, magari chiedendogli di passare ogni tanto da casa nostra per un controllo, o purtroppo per denunciare con tempestività l'effrazione. Evitiamo di rendere noto ad orecchie ed occhi interessati il periodo della nostra assenza. Ricordiamo che i social network possono essere preziosa fonte di notizie che ci riguardano e non sono così sicuri. La Polizia di Stato e le altre forze dell'ordine sono sempre impegnate per assicurare un maggior controllo del territorio a beneficio della cittadinanza e dei turisti.